Se noi prendiamo una popolazione batterica e la inseminiamo in una piastra, cioè in un ambiente limitato, chiuso, ricco di un mezzo di cultura, cioè ricco di un alimento di cui si nutrono i batteri, vediamo che cominciano a riprodursi, poche unità cominciano in poco tempo a crescere, a riprodursi. E si riproducono, quindi aumentando di popolazione, secondo una certa curva, in un certo modo, insomma, che possiamo in qualche modo rappresentare graficamente. E questa rappresentazione ci è mostrata in questo grafico, in cui vediamo che esiste una prima fase di adattamento in cui la popolazione rimane sostanzialmente stabile, cioè cresce di poco. I batteri si riproducono, ma poco, sono poche unità e quindi anche dividendosi da 1 diventando 2, da 2 diventando 3, crescono molto lentamente. Poi raggiungono una situazione ottimale, in cui il loro rapporto è ottimale tra il numero della popolazione e il mezzo in cui si trovano, e si assiste a una crescita esponenziale logaritmica, come vedete rappresentata in questa fase in cui la curva sale, sale molto lentamente. Arrivato a un certo punto, però, questa curva cessa di crescere così rapidamente e si arriva a una fase stazionaria. Cosa vuol dire? Una fase in cui si stabilisce un certo equilibrio tra la quantità di batteri, insomma, il numero della popolazione, e la disponibilità dei mezzi di sostentamento disponibili in questo ambiente chiuso. No, i mezzi non possono aumentare perché siamo in un ambiente chiuso, vengono consumati sempre di più da una popolazione che è diventata sempre più grande, e nello stesso tempo questa popolazione produce anche dei rifiuti. E quindi, quando i rifiuti si accumulano e non c'è più disponibilità, la popolazione poi è destinata a decrescere e si assiste a una fase di morte, insomma, di decrescita, la quale ha un andamento abbastanza rapido, verso il basso, che tende, in qualche modo, a riprodurre la fase di crescita esponenziale. In questo caso la vedete che declina in maniera meno rapida di quanto è la salita nella fase esponenziale, ma decresce rapidamente. E decresce fino a quando non si stabilisce, magari, fino a quando tutti i batteri sono morti perché sono state consumate tutte le risorse, oppure ne rimangono solo pochi. Questo è interessante per capire cosa succede quando, togliendo tutti gli altri fattori, abbiamo una popolazione che vive in un ambiente limitato. Limitato con delle risorse disponibili, ma queste risorse disponibili non sono infinite, possono essere consumate e non vengono, in qualche modo, riprodotte, rifornite. E da questo punto di vista possiamo fare un parallelo tra quello che succede in una piastra, ambiente chiuso, con delle risorse, limitate, per quanto grandi, e una popolazione di batteri oppure una popolazione umana. Il parallelo è questo. Gli esseri viventi vivono in un ambiente limitato che è la Terra. La Terra più di tanto non può dare. Ha una quantità di risorse, grande, enorme, non ancora magari tutte sfruttate, però finita. Alcune si possono, in qualche modo, rinnovare, però le risorse della Terra sono finite. E sotto questo punto di vista colpisce un fatto. Colpisce che se si va a vedere come è cresciuta la popolazione umana negli ultimi 65 anni, dal 1950 al 2015, ad adesso, e lo vedete in questa curva, si vede come si sia assistito a una fase di crescita logaritmica. La popolazione umana è passata nel 1950, erano 2 miliardi e 500 milioni gli abitanti del pianeta, adesso sono diventati 7 miliardi e 500. Vuol dire che nel giro di 65 anni la popolazione sulla Terra è triplicata. Allora, se questa curva, nella sua fase ascendente, dovesse continuare così, anche nei prossimi 65 anni, vuol dire che fra 65 anni, cioè nel 2080, il mondo dovrebbe contenere qualcosa come 21-22 miliardi di abitanti, cosa che è impossibile. Impossibile perché pare che le risorse del pianeta potrebbero essere sufficienti per alimentare una popolazione al massimo di 10 miliardi di abitanti. La cosa però sarebbe possibile se queste risorse fossero utilizzate bene, ridistribuite, non esaurite, quindi consumate con oculatezza, prevedendo il domani e anche il giorno successivo, non consumando tutto e subito, e anche ridistribuite. Voglio dire, nel migliore dei casi, la popolazione mondiale difficilmente potrebbe superare i 10 miliardi senza scompensare il pianeta. Allora vuol dire che questa curva non potrà continuare con questa ascesa come siamo stati abituati a vederla negli ultimi 65 anni. Se questo non può essere, vuol dire che siamo arrivati in una fase in cui questa curva dovrà per forza cambiare la propria pendenza, dovrà avvicinarsi a una fase di tipo stazionario come quella che abbiamo visto nella curva di crescita batterica. Se le risorse del pianeta, se questo è vero, insomma, se sono disponibili per, se noi abbiamo risorse sufficienti nel pianeta per alimentare 10 miliardi di persone, vuol dire che presto questa curva dovrà fermarsi nella crescita anche prima dei 10 miliardi, insomma, e quindi raggiuntere una fase stazionaria, la quale fase stazionaria potrà avere una durata variabile, perché poi, insomma, sappiamo che per quello che riguarda la popolazione mondiale, tanti fattori sono in gioco, tanti fattori che possono essere positivi o negativi, cioè può essere in gioco la tecnologia, la quale può sfruttare altre risorse, ci può dare altre fonti di alimentazione, ci può dare un altro modo di usare le risorse della terra, può aumentare la quantità di cibo disponibile, ci può venire incontro la tecnologia, però ci possono essere anche tanti fattori più tipicamente umani, come le guerre, le bombe atomiche, l'inquinamento globale, la deforestazione, il surriscaldamento del pianeta, lo zoo, cioè possono entrare tanti altri fattori, quindi non più in senso positivo, ma in senso negativo, che possono contribuire poi a mettere in crisi la sopravvivenza umana nella terra. Allora, questa situazione di equilibrio che si dovrà per forza realizzare, che durerà per un tempo indefinito, non sappiamo quanto, tra la disponibilità di risorse e il massimo della popolazione umana in grado di sopravvivere, quindi di utilizzare queste risorse al suo beneficio, il tempo in cui questo plateau, questa fase di stabilizzazione durerà, è abbastanza imprevedibile. Quello che però ci può mettere in sospetto è che dopo questa fase di stabilizzazione potrebbe arrivare invece una fase di decrescita, una fase di morte, viene chiamata nella curva batterica, nella curva di crescita batterica, e questa fase di morte, come si vede nella curva batterica, è spesso un andamento rapido, rapidamente decrescente, quasi quanto è stata la fase di decrescita. Quindi si potrebbe ipotizzare, ed è un discorso del tutto teorico, ma si potrebbe ipotizzare il fatto che questa fase stazionaria durerà non si sa quanto, anni, decenni, secoli, dopodiché si arriverà a una decrescita della popolazione umana, a una decrescita rapida, che vuol dire che in poche decine di anni ci si potrebbe trovare da 10 miliardi di persone a un miliardo. Cosa succederà alla fine del mondo? Non si sa, insomma. Però questa cosa dovrebbe metterci in allarme, e soltanto considerando l'aspetto demografico, senza considerare tutti gli altri fattori che influiscono sulla demografia. Quindi, diciamo così, se è così, in realtà, se dobbiamo essere prudenti e non essere catastrofisti, io credo che il problema principale che ci dovremmo porre, perché è un problema che non è in un futuro lontano, ma che si realizzerà in un futuro molto prossimo, che quindi riguarderà non neanche i nipoti, ma i figli, e il problema è quello demografico, è quello di riuscire a controllare le nostre risorse, la popolazione in funzione delle risorse, e la tecnologia in funzione di, insomma, di fare che la questione demografica e tutto quello che ad essa è connesso diventi il problema principale, insomma, come dobbiamo fare per garantirci la sopravvivenza, soprattutto, insomma, dei nostri figli e dei nostri nipoti, che cominciano a vivere adesso e che hanno bisogno, che avrebbero bisogno di poter vedere un futuro almeno di sopravvivenza davanti a loro, insomma, di non vedersi crollare il mondo. Non è un problema soltanto teorico, è un problema pratico, insomma, è un problema al quale se non cominciamo a pensare adesso poi potrà essere effettivamente troppo tardi. Potrebbe essere inutile diventare molto intelligenti, molto bravi, molto ricchi, se poi si rischia di non poter più vivere o di vivere in un mondo inabitabile.